Studiare le stelle in Calabria è diventato più facile quest'estate, infatti è stato inaugurato il Parco Astronomico Lilio a Savelli, una struttura attrezzatissima dotata di osservatorio planetario e radiotelescopio. Carla Monaco è andato a visitarlo per noi. A Savelli le stelle sono più vicine. Qui, a 1170 metri dal mare, nei boschi e ai confini dell'altopiano della Sila, è nato il primo parco astronomico della Calabria. Si chiama Lilio come il famoso astronomo di Ciro Marina del 1500, l'ha voluto la provincia di Crotone che ne ha affidato la gestione alla società che l'ha progettato e costruito. Qui ci sono attrezzature modernissime che permettono di fare ricerca scientifica ad altissimo livello. L'osservatorio, protetto da una cupola d'argento che si apre, si chiude e custodisce il telescopio principale, un tubo ottico potentissimo che può essere usato anche a distanza attraverso internet. C'è anche il radiotelescopio per ascoltare il rumore dell'universo, una grande parabola che permette di sfruttare le onde radio per studiare i fenomeni celesti. Abbiamo da poco, infatti, diciamo, istituzionato dei rapporti anche con l'Università, per esempio, di Cosenza, con il Dipartimento di Fisica e con la professoressa Sandra Savaglio che sta curando, diciamo, questi rapporti. Abbiamo un progetto di portare gli studenti qui, che fanno la magistrale in fisica, in astrofisica, a fare le osservazioni e quindi a lavorare con la strumentazione. E in più stiamo, diciamo, discutendo per andare pure un po' al di là e fare dei progetti che coinvolgono anche le scuole e l'università. Quindi, diciamo, di creare una sorta di polo scientifico che praticamente occupi, diciamo, quello che manca qui sul territorio. Il planetario, invece, serve a simulare il cielo e i fenomeni celesti. E poi ci sono spazi per i laboratori didattici rivolti ai più piccini. Non solo loro possono costruire il sistema solare, ma anche possono costruire l'astrolabio, che è uno strumento utilissimo per poter capire quale costellazioni ci sono in una determinata ora, in un determinato giorno, in un determinato mese. Quindi poi i bambini magari si ritrovano sul balcone di casa e insieme all'astrolabio capiscono che cosa vedono sulla loro testa e imparano così sempre giocando, perché si sa, i bambini devono imparare giocando. Le iniziative sono tante. Proprio oggi parte un corso di formazione per adulti e, a settembre, ci sarà un appuntamento importantissimo. È stata scelta questa come sede del prossimo congresso nazionale del gruppo Astronomi Digitali e dell'Unione Astrofili Italiani per poter praticamente ricevere qui un sacco di ricercatori che si occupano di comete e asteroidi e verrà fatto appunto per la prima volta al sud Italia. Gioiello tecnologico moderno, il Parco Astronomico Lilio è custodito in uno scrigno altrettanto prezioso. Savelli, un piccolo paese di montagna che presto potrebbe ottenere la bandiera arancione dei borghi più belli d'Italia. Per noi l'osservatorio è il volano, per noi l'osservatorio è qualcosa che ci può dare sostegno sia economico come anche turistico e tutto il resto. Noi ci crediamo e quindi automaticamente tutte le nostre energie sono collegate allo stato dell'osservatorio. Speriamo che vada bene, l'inizio diciamo siamo soddisfatti, dobbiamo impegnarci di più e chiaramente siamo ottimisti.